Sono innamorato della nostra professione e soprattutto del modo di lavorare digitalmente. Il mondo digitale mi ha permesso di entrare a fondo in queste discipline, migliorando la precisione dei miei trattamenti e la predicibilità del risultato. L'obiettivo di questo corso è quello di trasferire l'intero flusso, o meglio, la visione di questo concetto digitale per il trattamento dei casi complessi, quindi il trattamento delle intere arcate. Normalmente l'intera arcata è un po' il nemico del dentista, perché offre problemi sia dal punto di vista della previsualizzazione estetica, perché il paziente ha bisogno di cambiare totalmente la condizione in cui arriva allo studio, di migliorarla, di superare le difficoltà chirurgiche. Voglio condividere con tutti i partecipanti questa visione e come poterlo fare in un modo semplice, ma preciso e predicibile. Il caso è stato un caso interessante, complesso, perché era un caso di un'intera arcata, un'arcata inferiore. La cosa più importante però poi è riuscire a trasferire la corretta posizione dei denti sulla posizione degli impianti. Questa è la cosa più difficile, perché inserire bene gli impianti è essenziale. No tenemos il problema di quando facciamo una prueba se la struttura va a ajustare, che va a occorre, che vamos a tener che fare per corregirlo. Simplemente damos forz'oposto che va a ajustare, perché sempre ajusta. Quello che io intendo è realizzare, nel nostro caso, un provvisorio immediatamente dopo la chirurgia, ma un provvisorio non ribasato. Io voglio che sia un provvisorio realizzato con tutti i dettagli tecnici di un definitivo. Il PIC ha rappresentato il protagonista di questo percorso, di questa fase, perché grazie al PIC ho potuto trasferire perfettamente la posizione dei miei impianti senza alcun errore e mezzare. Nel giro di 15 minuti abbiamo realizzato un provvisorio già con le connessioni integrate. Hace che potamos lavorare molto più con materiali monoliticos. Materiali monoliticos come il zirconio, che oggi inizia nos apportano una gran calidad, tanto a livello di propria edizia fisica, come a livello dell'estetico. Nos motivò a incorporare il PIC System, fu una decisione tomata, dal punto di vista di che tenivamo un gap che tenivamo che rellenare. E al final pensiamo che la migliore opzione, o quizá, ma che la migliore, la unica opzione è la PIC. Dobbiamo soltanto fare un clic sulla stampante e avvitarlo. Questo è il futuro? No, questo è il presente.